Noi incominciamo adesso un percorso che ci costerà un poco, perché lungo questo percorso dovremmo fare i conti un po' con quello che conoscevamo e che pensavamo fosse più che sufficiente. E con l'altra dove troveremo non tutte ma diverse novità e qualche novità potrebbe anche disturbarci perché non rientra nel quadro della nostra mentalità. Ora, quando si fa ricerca bisogna partire come i bambini, più o meno sapendo dove si arriva, ma non si sa quale percorso e non si sa quale qualità di percorso troviamo. Il dove si arriva lo sappiamo, cioè noi vogliamo capire questo testo. Siamo credenti, non siamo credenti. Ecco, qui non facciamo un corso di riflessione teologica cattolica, ma facciamo un corso di analisi scientifica di un testo. E per chi è credente come me, capirà che non esiste nessun tipo di tensione o di contrasto tra vera scienza e vera fede. Chi invece non è credente si sentirà a casa sua perché le argomentazioni saranno sempre, solo e unicamente poggiate sulla ragione, per cui quando verranno fatte delle affermazioni, alle spalle c'è sempre o una dimostrazione o una documentazione. Detto questo, vediamo di che morte dobbiamo morire. Allora, in questa prima domenica, noi esploreremo il testo senza approfondire nessuna singola parte. Ma prenderemo contatto con le tre redazioni del Padre Nostro. Noi non abbiamo solo un Padre Nostro, ne abbiamo tre. Due sono nel testo biblico, uno in Matteo, uno in Luca. E il terzo lo troviamo in un testo di catechismo del primo secolo. E, cosa simpatica, questo testo è più antico a livello redazionale degli altri due. Lo vedremo questa mattina e discuteremo sul fatto. Bene, la prossima volta, invece, cominceremo a prendere in considerazione le singole affermazioni. Quindi analizzeremo, Padre Nostro che sei nei cieli, domenica successiva, sia santificato il tuo nome e poi venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, dacci oggi il nostro pane quotidiano, è il Padre Nostro. Quindi non c'è niente da spiegare. Ogni singola affermazione, però, voi pensate, ci occuperà una mattinata intera. Il che significa che la prima cosa che faremo è un'analisi molto precisa della filologia del testo. E quando noi parliamo di filologia, noi in genere parliamo, dico in genere, parliamo del significato delle parole. Beh, non è proprio così. È anche così. Ma il significato delle parole, noi lo dobbiamo calare in quello che era la cultura di allora. Non dimentichiamoci che lo stesso vocabolo, in una cultura, ha un significato e molte risonanze di significato. In un'altra cultura, pur dicendo la stessa cosa, cioè adoperando lo stesso vocabolo, c'è un altro significato e altre risonanze. I miei amici che hanno fatto, poveri, durante la fine di giugno, con un caldo bestiale, hanno fatto le due settimane di corso intensivo di ebraico, ho sudato io, ma loro di più. Hanno imparato, per esempio, che la parola ebraica leb, non lev, quella che succede adesso a Pordenone, ma leb significa cuore. Sì, però, mentre noi, nella nostra cultura occidentale, il cuore lo doperiamo non solo come parte anatomica assolutamente essenziale dell'organismo umano, abbiamo anche il significato traslato di sede dei sentimenti, unzovaito. La sede dei sentimenti in oriente sono i reni, perché il cuore è la sede dell'intelligenza, è la sede della volontà, è la sede dell'intuizione. Quando io in oriente dico ti amo con tutto il cuore, in sintesi significa ti amo con tutta la mia capacità di capirti. Noi diciamo in occidente ti amo con tutto il cuore e c'è la tachicardia. Capite che la parola cuore, sì, traduce il termine lebab, ma in bocca a un pordenonese, a un friulano, a un veneto, a un italiano, dice una cosa. In bocca a un semita di tre mila anni fa, due mila anni fa, dice tutt'altra cosa. E noi pensiamo che quando stabiliamo il significato del vocabolo, leb uguale cuore, abbiamo capito. No, non abbiamo capito un bel niente. Provate ad avere un'occhiattina a quello scarabocchio che trovate alla linea 29. Questo è uno scarabocchio che dobbiamo tenere presente per tutta quanta la panoramica che affronteremo nei singoli incontri. sulla sinistra trovate quella testa parlante mettiamoli in nome Gesù. D'accordo? Il quale insegna quei fogli insegna il Padre Nostro a chi? Ai Galilei. Gente un po' rozzetta e molto approfittatrice del nord della Palestina. Pomeziatei. Ora, questa preghiera ha avuto un effetto. È la stella che trovate a destra. In che lingua Gesù ha insegnato il Padre Nostro? Con altissima probabilità il Padre Nostro è stato insegnato in aramaico. Poi verrà il problema ma quando lo ha insegnato nel discorso della montagna o lo ha insegnato dopo un'esperienza di preghiera in cui gli apostoli gli hanno chiesto insegnaci. Lo vedremo. Quando Matteo e Luca decidono di riportarlo lo riportano in greco. cioè devono fare la traduzione del testo ma lo devono fare in modo tale che il prodotto finale di questo testo greco produca nel nuovo destinatario lo stesso effetto del Padre Nostro di Gesù nel destinatario originale. Ecco perché noi biblisti abbiamo qualche punto di domanda nel dire queste sono quando lo leggiamo in greco queste sono le esattissime parole di Gesù. perché come vedremo ci sono delle varianti e quando ci sono delle varianti vuol dire che l'autore che traduce ha delle incertezze per cui uno traduce in un modo l'altro traduce in un altro. E quando tu hai in mano solo le traduzioni ti chiedi cosa sta dietro e allora attenti la ricostruzione ma la ricostruzione è sempre un'ipotesi non è mai una certezza assoluta. Quindi noi conosciamo benissimo il secondo stadio del Padre Nostro quello cioè recepito da Matteo e da Luca per le loro comunità. dico recepito non inventato perché c'è una tradizione orale questa tradizione orale è comprovata dal fatto che il primo Padre Nostro scritto redatto che noi possediamo è della Didache non di Matteo non di Luca. La Didache è un catechismo che è stato scritto poco prima della distruzione di Gerusalemme prima del 70 lo vedremo subito e quindi è molto più antico di Matteo e molto più antico di Luca e fa parte di quella tradizione liturgica che era già consolidata nella chiesa di Gerusalemme o nella chiesa di Antiochia. e quindi la Didache ci riporta allo stadio orale del testo uno stadio orale dove però il testo è già stato in qualche maniera manomesso positivamente manomesso perché Luca all'inizio del suo Vangelo dice che lui ha fatto ricerche accurate nel scrivere quello che scrive e riporta un Padre Nostro molto più semplificato affronteremo anche questo problema qual è quello originale quindi con questo schema noi dobbiamo tenere presente il problema tra il Gesù storico e il passaggio dall'aramaico qualcuno ipotizza anche l'ebraico perché Gesù non intendeva staccarsi dalla sinagoga e in sinagoga si prega in ebraico passaggio dal Gesù storico ai Vangeli greco ma poi c'è l'altro passaggio dal greco alle lingue nostre e lì c'è lo stesso problema quindi noi dobbiamo sempre tenere presente che sul testo che noi recitiamo o che i nostri amici atei sentono recitare dai loro concittadini cristiani è un testo che possiede due passaggi di traduzione con la stessa problematica ripetuta due volte e non sempre ottimamente riuscita perché tra il Gesù e il greco il passaggio non è ottimamente riuscito perché se fosse ottimamente riuscito noi troveremmo quando mettiamo in parallelo Matteo e Luca nelle parti che hanno in comune troveremmo la stessa traduzione il che non è vero che vuol dire che anche per loro c'è stato una non riuscita perfetta come per noi quando traduciamo dal greco in italiano sappiamo che la riuscita non è perfetta e poi per singole parti vi spiegherò come vi spiegherò il perché questo è il primo passaggio che per qualcuno potrebbe essere deludente ma per ogni singolo elemento daremo o cercherò di dare spiegazione sufficiente bene un po' di bibliografia ecco la cosa che mi ha preoccupato è che c'è una caterva infinita di bibliografia devozionale dove si continuano a ripetere degli errori imperdonabili ma poiché la volumetria di questa letteratura è quasi imponderabile e Cicerone dice libri ex libris fiumt un libro nasce dalla copiatura di altri libri si copiano tra di loro non è che facciano una ricerca seria critica e quindi si pongano delle domande se questa consuetudine è sana o è condizionata da qualche elemento culturale del passato allora per non inoltrarvi in questa letteratura devozionale che comunque ha dei grossi meriti non si può insomma buttarla via così gratis ci sono tanti errori questo sì io ho cercato in italiano qualche cosa che non appartenga a questo devozionismo o se ce l'ha parte da una radice sana guardate che non ne ho trovati tanti io lì ve ne ho messi quattro e come notate non è che siano recentissimi il più recente è quello di Vilchez Lindez è un professore di esegesi spagnolo è uno dei quattrocento ma gli altri sono testi che hanno una certa età sulle spalle come quello di Clement e Stendert quello di Schurman quello di Schurman ho visto che c'è un piccolo trucco perché l'edizione bella è stata pubblicata dai nostri amici di Comunione e Liberazione attraverso la Jakabuk è un ottimo libro ma lui aveva scritto una bozza di questo libro molto prima ed è stata edita dalla città nuova editrice nel 67 ho dato un'occhiata ai due testi beh molto più fluido quello della Jakabuk è molto più serenamente leggibile però contiene anche passaggi di un certo impegno mentre invece quello di Cittanova è un ruscello di montagna fate voi la scelta un testo invece che si legge molto volentieri ma bisogna leggerlo come quando si beve il caffè bollente un po' alla volta mentre Schurman lo si può leggere currenti calamo io anche in Jeremias bisogna leggerlo con calma perché ogni frase pesa una tonnellata i miei vecchi maestri mi dicevano per fare un buon riassunto occorre o un professore vecchio o un professore giovane che sia un genio ma per leggere il riassunto o occorre essere vecchi o occorre essere giovani geniali come il professore che ha fatto il riassunto ecco perché Joachim Jeremias bisogna leggerlo con calma e ponderare ogni sua singola affermazione in questo libriccino che probabilmente sarà ristampato per un bel pezzo anche se l'originale è del lontani anni 60 del secolo scorso è un bonbon perché è la sintesi del buon vecchio che dice non spiego agli universitari ciò che io ho trovato ma lo spiego ai miei nipoti e quindi un libretto molto piccolo dove spiega la parola Abba dove spiega il messaggio centrale del nuovo testamento che è la fede in Gesù Cristo e dove spiega il Padre nostro chi invece riesce a uscire fuori dalla lingua italiana ha questa possibilità di scegliere tra l'inglese 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 52 di Charlesworth the Lord prior another prior text form the greco roman era non badate la mia pronuncia mi hanno detto che è quella di uno scaricatore di porto e è un bel testo solo che lui molto prudentemente si è fatto aiutare da diversi collaboratori che invece vuole qualche cosa in francese linea 51 alla sua età 1971 sono tanti però è un testo quasi completo se dovesse l'autore il quale non lo aggiornerà senz'altro perché questa è la pubblicazione della tesi di uno dei quattrocento del dottorato in sacra scrittura di solito di solito queste tesi non si aggiornano restano a perpetua un re memoria per capire qual era la situazione scientifica di quel periodo mentre invece avete in tedesco addirittura una bibliografia sul Vaterunzer questa è una gentile professoressa Dorneich la quale ha dedicato quasi tutta la vita a raccogliere tutto anche uno sputino giornalistico di un mezzo articolo nel Frankfurt e Algemeinden anche quello è catalogato quindi lì divertitevi finché vi pare naturalmente tutto in lingua tedesca e adesso incominciamo la nostra fatica